A quali impianti è applicabile il nuovo regime incentivante del decreto biometano? Con il nuovo decreto biometano non ci sono particolari interdizioni a particolari tipologie di impianti, quindi la risposta è fondamentalmente a tutti gli impianti di produzione da biogas. E come funziona il sistema di incentivi? Il sistema di incentivi funziona tramite l'assegnazione di un certificato di emissione al consumo del biometano prodotto. Il certificato di emissione al consumo è un certificato che serve per soddisfare l'obbligo di biocarburanti da parte dei soggetti che emettono carburanti nel sistema tradizionale dei carburanti. Quindi in realtà parlare di incentivo in senso stretto tecnicamente non è del tutto corretto. Bisogna dire che il biometano da oggi può entrare nel sistema di obbligazione dei biocarburanti, che è il sistema con cui la Commissione europea impone ai vari Paesi membri che una determinata quantità di consumo di energia sia coperta da fonti rinnovabili e quindi in questo caso il trasporto. E quanto valgono questi certificati di emissione al consumo? I certificati di emissione al consumo, prima di capire quanto valgono in sé, bisogna capire quanti ne vengono assegnati. Ecco, questa è una cosa molto importante perché il numero di certificati di emissione al consumo assegnati dipendono dalla tipologia di biomasse utilizzate. Quindi vi è una regola di base che consente il calcolo del numero di cica assegnati sulla base delle giga cal prodotte dividendo per 10, ma se le biomasse sono di particolare pregio, in particolar modo le biomasse per il double counting o le biomasse per il biometano avanzato, in questo caso viene assegnato un numero doppio di certificati di emissione al consumo per in quanto la totale energia prodotta, sempre in termini di giga calorie, deve essere divisa per 5. Per esempio, prendiamo una produzione di biometano, quanti metri cubi servono per fare 10 giga calorie e quindi per ottenere un CIC nella condizione di base? Servono circa 1230 metri cubi. Se invece produciamo il biometano da particolare biomasse, come detto prima, allora basteranno circa 600-620 metri cubi per avere un CIC. Quanto vale il CIC? Se il CIC deriva da particolari biomasse, in particolar modo da biometano, da biomasse per il biometano avanzato, allora il CIC varrà 375 euro a CIC e questa valorizzazione rimane fissa per 10 anni, per i primi 10 anni di esercizio. Questa è una peculiarità propria del biometano avanzato che è stata prevista proprio per consentire la bancabilità e lo sviluppo del biometano verso questa particolare forma di pregio del biometano avanzato.